Non sono neanche da calende greche, però insomma richiedono un tempo importante. Nei prossimi giorni certamente, no, questo non può esilitare, nessuno credo voglia prendersi la responsabilità di far esilitare il voto in giunta sulla decadenza per proporre altre questioni. Se qualcuno proporrà da domani l'abolizione del voto segreto da regolamento del Senato lo proporrà nelle dovute maniere, ma certamente in questa settimana non si può chiudere questa situazione, si vedrà per l'Aula.